ci siamo signori io comincio con questi 69 ticket vediamo se mi permettono di risparmiare qualche gem mozza che alla fine andrò andrei e andrò di gemme qualora non dovessi trovare nulla però se trovassi già ex o ld dai ticket potrei anche valutare di spenderne un pochino in più per poi ovviamente risparmiare le gem se non troviamo niente invece vado di gemme sti cazzi vaffanculo invece con la scusa vi tengo attenzione orb dorata vediamo allora io ho scaricato le armi quindi teoricamente loading e cose non ne dovrei avere se già qua ci fosse ex o ld di kadhaj potrei anche pensare di andare solo di ticket vediamo boom ex di kadhaj ottima perfetto perfetto oddio 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 va bene siamo arrivati a 700 e non è uscito nulla e non è uscito nulla bisogna andare di gem la ld richiede il sacrificio delle gemme sperando che magari mi esca un'altra bt magari mi esca un'altra bt, vediamo un'altra bt 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 c'è l'ho trovato 5x c'è l'ho trovato 5x c'è l'ho trovato 5x di Khadaj beh una me la tengo da parte così magari se mi serve la sfera toh fatevi lo screen vi lascio la schermata così vi potete fare lo screen dai fatevi lo screen fatto